L'obiettivo è rappresentare un unico corpo sociale, formato da autonomi, professionisti, imprenditori, titolari di aziende insieme ai loro dipendenti ed è alla base della costituzione di un nuovo movimento politico nel Paese. Il nome scelto si richiama agli Autonomi e Partite IVA ed è rappresentativo di un programma che si prefigge il compito di difendere la libera iniziativa e di trovare quelle risorse finanziarie che sono necessarie alla ripresa dello sviluppo economico e per cambiare radicalmente le condizioni culturali, sociali e politiche. Ne parliamo con Antonio Cerrone, coordinatore regionale del movimento, da qualche giorno presente anche nel Molise. È un movimento a sostegno di Autonomi e Partite IVA ma soprattutto anche a sostegno di coloro che stanno attualmente perdendo un posto di lavoro e una cosa che stiamo cercando sempre di combattere è quella di avere una burocrazia zero e soprattutto una tassazione così come negli altri Stati europei molto più bassa e una flessibilità che permette soprattutto a tutti i giovani di poter intraprendere una vita imprenditoriale non così come oggi. Purtroppo in Molise c'è un problema così come in tutta Italia che i nostri giovani vanno fuori dall'Italia e noi con questa nostra richiesta di volere avere un ministro a Roma per poterci rappresentare come Autonomi e Partite IVA e degli assessorati che a sua volta ci rappresentano nelle regioni e nei comuni. Io da coordinatore regionale mi sto combattendo per avere questo assessorato nella regione Molise così come combatterò per avere questo assessorato in tutti i comuni del Molise per ascoltare tutte le esigenze degli Autonomi e Partite IVA che portano, sostengono quello che è il PIL, l'economia dell'Italia da far sì che voi sapete tutti che dall'economia da quello che versiamo noi manteniamo la sanità, manteniamo la pubblica amministrazione ma si paga tutto quello che il governo paga lo paga con i soldi, con i costi che andiamo a contribuire noi mensilmente, trimestralmente con le tasse, con IVA e con tutto quello che è attualmente la tassazione in Italia.